ciao a tutti bentornati su ginger generation io sono laura e con me c'è medy mescar ovvero uno dei nuovi protagonisti di scam italia 4 tu sei una delle grandi novità di scam italia perché ovviamente questa stagione è tutta incentrata sul personaggio di sana e tu sei il love interest come direbbero da altre parti di sana intanto ti volevo chiedere se mi racconti un po di te magari raccontandomi qualcosa che qualche curiosità di te che non 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 si sa così che i nostri lettori possono conoscerti meglio qualche curiosità di me che non si sa beh insomma sono come dicevi sono una nuova entry nella serie e una cosa che non si sa penso ci siano molte cose che non si sa una cosa che non si sa è che da vivo vivo in francia da dieci anni quindi adesso vivo a quindi per per far parte del cast di scam ho dovuto trasferirmi tra virgolette per due mesi a roma per le riprese poi ovviamente ho dovuto fare su e giù per per fare i provini incontrare ludovico e poi beatrice all'inizio quindi sì questa è una cosa magari che non si sa ancora che vivo in francia più che altro diciamo è una cosa che ho chiesto anche a beatrice è che spesso si gli attori si chiede che cosa hanno messo di loro nei propri personaggi invece io ti voglio chiedere quali sono le qualità di malik che tu non hai ma che ti piacerebbe aspirare ad avere dopo averlo interpretato ma guarda malik trovo in malik un lato molto spensierato anche uno che magari è riuscito a trovare giustamente questo equilibrio che ti permette di viverti la vita nel momento presente senza porsi troppe domande magari sono uno un po più riflessivo che che si pone un sacco di domande che vuole capire un po troppo le cose quindi forse quello malik malik mi ha permesso di scoprire un po questo lato mi piacerebbe avere questo lato di malik un po più spensierato forse quello che ovviamente noi lo conosciamo come il un amico del fratello di sana e lo vediamo principalmente attraverso gli occhi di sana soprattutto io ho visto tre puntate quindi per ora posso dirti quello quello che ho visto però quello che mi ha colpito è che lui sembra aver fatto già delle scelte molto importanti nella nella sua vita per esempio io alla fine dell'episodio lui appunto condivide il fatto che ha fatto delle scelte anche riguardo alla sua fede immagino tu ieri mi sembra che l'hai anticipato un pochino in in conferenza riguardo a delle contraddizioni che vedeva e quindi ha fatto delle scelte ti volevo chiedere magari nella tua vita che cosa hai avuto in comune con le scelte che ha fatto malik invece in che modo rispetto alle poi le cose che vedremo succedere tu non ti saresti comportato nel stesso modo in cui si comporta lui ma guarda come ti dicevo sono una persona molto molto riflessiva quindi ovviamente che si pone molte domande e quindi che guarda dico vivendo in Francia a volte ho qualche qualche faccio fatica un po articolare in italiano quindi te lo dico scusami e quindi magari c'è sì questo questa voglia di questionare un po tutto e malik ha fatto delle scelte come dici durante che che tiene durante questa stagione però io non so se malik nel futuro cambierà idea o meno nel senso sono sono cose momentanee della vita è anche un ragazzo giovane che magari in quel momento lì ha fatto una scelta ma che nel futuro cambierà e quindi credo sia importante continuare sempre a a questionare le cose che ci che ci circondano senza senza accettare tutto come se fosse una verità assoluta diciamo volevo chiederti ovviamente tu sei un attore che è entrato in questo cast che è già loro mi dice a Beatrice che sono proprio migliori amici da tanto tempo perché comunque è un cast molto unito che lavora insieme da da quattro anni come è stata l'accoglienza dei ragazzi del del cast e con chi è legato di più guarda l'accoglienza è stata stupenda ho avuto la fortuna che il mio primo giorno di riprese è stato un giorno in cui abbiamo girato al mare in cui giriamo la scena una scena che si vede sul trailer in cui siamo tutti tutti insieme c'è proprio tutto il cast riunito quindi è stato proprio bello incontrarli tutti insieme e mi hanno accolto davvero davvero come come un uomo nella famiglia quindi ovviamente sì ce l'è stato un po' sai quando sei uno nuovo magari c'è un po' di timore magari non mi accetta non gli piacerò non lo so invece no invece sono stati proprio davvero tutti iper accoglienti e gentilissimi per quanto riguarda con chi ho legato di più ovviamente Beatrice forse perché le mie scene principali sono con lei e poi abbiamo comunque dovuto trasmettere questa amicizia e poi quest'amore allo schermo quindi sicuramente Beatrice però devo dire mi sono trovato benissimo con tutti con le ragazze e poi anche con i ragazzi che ho sfortunatamente visto un po' meno sul set però poi magari ci siamo scritti su Instagram, Whatsapp e quindi sì continuo anche a sentirli anche loro ovviamente Beatrice è dovuta entrare in questo mondo che è quello comunque dei ragazzi di seconda generazione che invece immagino che tu conosca di più perché magari rappresenta più la tua realtà poi se no dimmi pure se non è vero no cioè non lo so se la conosco di più la conosco un po' ma non so se lo conosco di più magari può essere che lei l'abbia studiato molto più di me per la parte magari conosce molte cose anche più di me quindi questo non saprei dirtelo non lo mettiamolo come assunto esatto però quello che volevo chiederti è come avete costruito insieme il rapporto perché è molto interessante perché noi li vediamo che loro hanno già anche se è un rapporto fatto solo di sguardi però c'è già una piccola intesa che poi ovviamente all'inizio della stagione si intensifica come avete creato questa anche questa chimica, questa connessione che tra questi due personaggi è già evidente dalla prima volta che li incontriamo? Beh, si è creata abbastanza direi naturalmente nel senso già Beatrice una cosa che magari non tutti gli attori fanno lei era già stata presente fin dal primo provino che ho fatto a Roma quindi già l'avevo incontrata nel primo provino poi al secondo e quindi già ci eravamo incontrate quando ho saputo di avere la parte ci siamo sentiti un po' e sicuramente creare un'intesa al di fuori dal set ha aiutato molto anche poi le scene le scene diciamo insieme e se c'è una cosa di Beatrice che ho notato è che è un'attrice davvero molto generosa che mi ha, come ti dicevo prima anche accolto in questa famiglia e sicuramente il fatto di poter contare su di lei ha aiutato molto questa dinamica tra Malik e Sana che secondo me è una dinamica in cui vogliono davvero dare all'altro dare il tempo di decidere il tempo di fare le proprie scelte e poi anche magari dare il tempo cioè prendere il tempo di ascoltare l'un l'altro quindi questo fatto di aver preso il tempo di anche conoscerci al di fuori ha aiutato molto Ti faccio l'ultima domanda mi racconti un aneddoto che ti è rimasto nel cuore dell'elaborazione di questa serie magari qualcosa che vediamo una scena che vediamo che ti è rimasta particolarmente impresso ma anche qualcosa che noi non vedremo ma che per te è stato un aneddoto speciale Beh, una scena che ricordo davvero tantissimo è la scena alle terme c'è una scena che abbiamo girato alle terme che è stupenda già visivamente secondo me e poi eravamo io e Beatrice all'interno di queste terme caldissime abbiamo fatto mezza giornata sulle terme ed è stato davvero cioè non lo so era surreale essere in quel in quel posto bellissimo a girare queste scena proprio non c'era neanche bisogno di recitare praticamente eravamo già lì il paesaggio faceva tutto per noi tra virgolette quindi quello è rimasto proprio molto bello Beh, ciao a tutti grazie di aver ascoltato questa intervista e un abbraccio